Eccoci qua, lunedì 17 settembre, la Giacci e l'Edo, uno tutto mangiato, la cappella mangiata, è rimasta la cappella, è uno qua, roba piccola, abbiamo appena cominciato, speriamo bene. Anche l'Edo trova il primo, dai. Dai che è bello, bello, sano, fresco, c'è la lumachina sotto, va bene dai, incredibile davvero. Girare nello stesso punto, guarda, guarda cosa c'è sotto la sorpresina col figlio. Guarda, 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 che bello, sì. Girare nello stesso punto per minuti e non vederlo. Impetta, che non è finita la storia, questo l'ha trovato la nonna, fantastico direi, fantastico, da fotografia, ecco, me la sono dimenticata. Poi la nonna ha trovato anche questo, attento qua che qua li schiacciamo, va che bello, va che bello mamma, i pagnottoni che nascono qui. I cosiddetti pagnottoni, anche questo c'è il figlio, guarda, di traverso. Aspetta, ma che bello che è, bellissimo. Non c'è neanche arrivato alla... Io ne ho visto uno con la testolina mangiata, ecco un altro qua, è quello lì è il mio, sì, aspetta, aspetta, non toccare, non toccare che devo fargli la foto a quello. Questo piccolo, ma da che ce n'è un altro qua, ma da che ce n'è un altro lì, non li vediamo, non li vediamo. Questo qui... Questo qui... Che bisogna che il cavi... In mezzo a quella roba lì che rimane dentro un po' di vita. Comunque questo ho preso un calcio. Sì, è sì. Oh, che bello. Bellissimo. Mamma, che porcini questi ragazzi. Spettacolo. Qua c'è quello lì, eh. E questo. E questo. E questo. E questo. Questo merita la foto ragazzi, la cavatura dopo. Ecco qua la cavatura. La facciamo anche croc. Bel croc. Belli paciarotti questi qua. Non vedo quale sull'arcaste di Milano. Sì. E non era uno o due. Erano? Quattro e quattro e quattro. Quattro e quattro e otto. Qua. In questi... In questi quindici metri quadri. Andiamo avanti. Ho tirato su un po' il muschio. Attenzione. Perché qua c'è sotto qualcosa di strano. Guarda che è tutto a rovescio. Guarda poverino. Vita al sole. Sdraiata. La mia. Disastro. Ma questo è staccato dal gruppo. Uno. E qua c'è sotto un macello qua. E uno. Quel piccolino attaccato su qui. Va come bianco. Sì sì, sono dei piccolini. Semenza. Ma da che? Ma qua cosa c'è sotto? Qua c'è sotto. Niente. Guardalo qua dov'è. Guardalo dov'è. Pensa a te. Siamo ubriati. Che bello. Che bello. No no. Come fai? Vieni lì. Guarda. Un altro. Due. Piccolini. Palline da tennis. Palline da tennis. Guarda. 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 No ma. Disastro. Come facciamo a non vederli? Guarda. Va bene. Si nascondono loro eh. Eh eh. Gli ho detto nonna ti ricordi qua quello gigante che trovavi sempre? Ogni anno? Va da lui qui. Ma ma che bello che sei. Che bello sei io. Che sviluppina c'hai addosso. Bellissimo. E' nascosto dalle foglie eh. Ho visto il rigonfiamento. Non si può vedere. E ha detto fammi tastare. Bello bello. Molto bello direi. E loro spingono. Spingono per uscire. Ma che bello. Sempre pancione eh. Ma che bello. Freschissimo. Dai che forse ho trovato una giornata da divertirsi un pochino. Dopo tanta attesa. Quanti sono nonna? Che culo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei piccoli. Ma qua ce n'è un altro guarda. Sì? Ancora piccolino. Sì. Insomma piccolino. Pacerottino. Eh. Quelli piccoli li lasceremo giù. Giù c'è la nonna. Che li sta raccogliendo in un posto storico. Ormai storico. Ma anch'io non ho trovato uno. Questo posto qua lo aspetto da tutta la stagione. Ho spostato la terra un po' perché l'ho intravisto. Guardate qua dove si è nascosto. Questo asino. Asino. Quar un disastro ragazzi. Oh santo maria. Vediamo cos'è uscito. Che bello. tutta la gamba schiacciata molto bello eccolo lì dove l'altro non l'avevo visto porco mondo ma va che bello oh ragazzi qua oggi farò dei filmati di merda perché sono praticamente emozionato oh che bello questi sono una goduria ragazzi era sdraiato anche lui ma che bello la lumaca c'è sempre con i cornetti in piedi e beh allora adesso andiamo a cercare anche il terzo piano piano e dopo ti nonna cinque cinque ah che belli un po' mangiati sì questo sto stiupato questo poverino lei dopo è trovato il terzo così per la cronaca qua a un metro proseguiamo stanchissimo sono in un posto ripidissimo guardate cosa hanno combinato sti roditori che non sono altro a questo porcino che era veramente di portata industriale a me come gli piace gli piace gli piace sono tutti panciuti oggi strano che sia solitario però va bene avanti abbiamo detto tutti i piccoli paciarotti vero poi ti ho detto vieni andiamo mettili via che andiamo è lì che grattina lei però non era convinta dice faccio un giro sopra questa roccia vedete la roccia è messo qua così lui bastone sopra che l'ha reso storto ah da che ce n'è altri due qua si vedi sono marci però questo è marcio questo pure questo c'era anche sabato guarda sono due attaccati visto c'era anche sabato questo qui mi sa vedi di levarti quel sorriso dalla faccia perché adesso ti picchio no oggi ve lo faccio questo questi sono due porcini che fanno la storia allora piano perché io ti conosco io ti conosco allora vabbè questo è fantastico ma poi vedrete l'altro piano 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 non è mamma piano mamma mia che bello che li avevi trovati due grossi che bello ragazzi li ho voluti anche io ferma ferma un attimo li metto a fuoco qua li ho voluti anche io mamma mia ragazzi va che porcino sì ma signori tenga in mano prego che culo c'hai nonna guardate questo porcino signori questo è impressionante è una rarità signori i porcini delle orobbie signori delle orobbie vergamasche attenzione che bello che porcino che onore grazie mamma che me lo fai raccogliere preferivo trovarlo guardate che porcino sarà quattro etti tutti quattro etti forse qualcosa di più cioè ma guardate la mia mano è fantastico non ha un segno non ha una lumachina non ha niente ma che colore mamma mia fantastico grazie a tutti